Un vento a 30 gradi sotto zero incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili a tratti come raffiche di mitra disintegrava i cumuli di neve e intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e pecchie coi rosari e intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e pecchie coi rosari seduti sui gradini di una chiesa aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne poi guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Nijinsky e poi di lui si innamorò perdutamente il suo empresario e dei balletti russi e poi di lui si innamorò perdutamente il suo empresario e dei balletti russi l'inverno con la mia generazione le donne curve sui telai vicine alle finestre un giorno sulla prospettiva Nijinsky per caso vi incontrai Igor Stravinsky e gli orinali messi sotto i letti per la notte un film di Heisenstein sulla rivoluzione e gli orinali messi sotto i letti per la notte un film di Heisenstein sulla rivoluzione e studiavamo chiusi in una stanza la luce fiocca di candele e lampade a petrolio e quando si trattava di parlare aspettavamo sempre con piacere e il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire e il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire maestro 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 No, 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 no No, 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 no